Ben ritrovati a chi già ci conosce e benvenuti a chi ci scopre solo ora da Marco Marelli e da tutta la redazione di Focus SG. In questa puntata affrontiamo un tema molto importante che riguarda la resilienza del nostro paese con il professore Matteo Cervellati dell'Università di Bologna. Grazie per essere qui con noi, professor Cervellati. Grazie a voi per l'invito. Lei è presidente della Fondazione Greens. Ci fa in una breve analisi di cos'è la Fondazione Greens, com'è legata al PNR, da cosa nasce e perché nasce? La Fondazione Greens è una fondazione che è stata creata all'interno dell'unica iniziativa PNR per la sostenibilità economico-finanziaria dei territori italiani, che è il partenariato pubblico-privato che ha risposto alla richiesta dell'Italia e dell'Europa di costruire una piattaforma che permetta di mettere assieme dati per studiare e accompagnare imprese, famiglie e pubbliche amministrazioni nelle loro scelte e nella predisposizione delle politiche. E cosa state pensando? Cosa avete in progetto? Quello che andremo a costruire è un ecosistema digitale, una piattaforma che sarà disponibile online. Questa piattaforma in realtà è una piattaforma che tratterà dati di diverso tipo, dati amministrativi, dati geoclimatologici, dati di sentiment analysis, dati presi dal web e non strutturati. Verrà ospitata dai server del Cineca e del Tecnopolo, quindi è una infrastruttura molto sicura e nazionale. Sì, è un'infrastruttura che deve rimanere, che dovremmo mettere a disposizione del Paese e ha l'obiettivo di estrarre informazioni e conoscenza da dati che sono in realtà spesso disponibili all'interno del sistema, ma che sono disponibili ma poco utilizzati o poco utilizzabili. Per esempio in alcuni contesti ci sono dati da diversi provider, un ministero o un'entità a dati utili, ma che non si parlano e che devono essere messi insieme. Esempi di questo tipo, se vogliamo sapere come il cambiamento climatico e la risposta agli shock, l'aumento delle temperature impatterà o sta impattando la nostra salute, avremo banalmente bisogno di mettere assieme dati di malattie cardiovascolari degli individui con i dati sugli shock di temperatura che ci vengono dai satelliti e questi dati possono essere messi assieme ma vanno pretrattati. Il trattamento di questi dati che serve per fare scelte, serve alla pubblica amministrazione per disegnare il sistema sanitario, serve alle famiglie per decidere come efficientare e investire nella salute, richiede un investimento. L'obiettivo della piattaforma Amelia è di offrire al sistema una piattaforma che faciliti la condivisione del dato, la verifica della qualità del dato e soprattutto offre dei servizi di analisi di dati che siano costruiti insieme al sistema di università e della ricerca per fornire imprese, famiglie, pubblica amministrazione dei servizi utili. La fondazione Greens quante persone e quanti enti coinvolge? La fondazione Greens è stata creata come hub del progetto, questi progetti PNR hanno una struttura hub e SPOC, il nostro progetto ha nove SPOC di diversa natura che studiano le famiglie, le imprese, le pubbliche amministrazioni, la decarbonizzazione, l'economia circolare, la sostenibilità dei ternitori e vengono coordinati da una fondazione di ricerca che è stata creata proprio per rispondere al bando. Quindi la fondazione Greens mette assieme attualmente 25 enti, appunto 12 università pubbliche, 2 università private, 3 centri di ricerca e 7 grandi imprese e altri. Sono coinvolti nominalmente 350 ricercatori di queste università pubbliche e private ma anche gli enti di ricerca, altrettanti ricercatori fanno parte dei gruppi di ricerca e poi abbiamo assunto circa 300 giovani ricercatori. E qual è l'obiettivo? L'obiettivo di questo migliaio di persone è di lavorare insieme alle imprese e alle pubbliche amministrazioni per capire come costruire questa infrastruttura e se volete fare sì che i dati utili per studiare i problemi economici e finanziari siano disponibili all'interno di questa infrastruttura. Quindi il lavoro è duplice, la costruzione di un'infrastruttura e la raccolta, il trattamento di dati e soprattutto la predisposizione di meccanismi di analisi di questi dati che possono poi essere messi a disposizione nel sistema. Il progetto si articola su tre anni e quindi avete dei tempi molto ristretti e penso che lavoriate veramente tanto perché siete già arrivati a una fase alfa della piattaforma Meglia che dovrebbe essere dopo arrivare sul mercato tra un anno e mezzo, correttamente. È corretto. E da qui all'anno e mezzo riuscite a stare dentro nei tempi e quali missioni vi siete, quali anche passi dovete fare? Allora partiamo dalla fine del progetto. L'obiettivo a fine progetto è di mettere a disposizione un ecosistema digitale che possa essere sviluppato, che sia scalabile. In tre anni questi ecosistemi digitali, anche quelli più piccoli, non esistono delle iniziative così grandi in precedenza, ma anche quelli più piccoli richiederebbero un periodo più lungo, almeno cinque anni. I tempi del PNR ci costringono a comprimere il lavoro e quindi l'obiettivo qual è? Arrivare alla fine del terzo anno con una piattaforma funzionante, che vuol dire nelle componenti di base è una piattaforma che deve essere sicura, dove i dati entrano in maniera sicuri, vengono riconosciuti, vengono analizzati e soprattutto un ambiente che offra dei servizi e che possa essere scalabile. La piattaforma non deve essere completamente sviluppata, deve essere sviluppabile. A questo fine, nel primo anno e mezzo, abbiamo lavorato su due pilastri in parallelo. La costruzione dell'infrastruttura, mentre i gruppi di ricercatori e i nostri partner, e quindi anche le interazioni con i ministeri, con le imprese, costruiscono il processo di raccolta dati, verificano quali dati sono disponibili, quali non sono disponibili e soprattutto i pacchetti di analisi di questi dati. Nel prossimo anno e mezzo andremo a popolare, anche se è un termine che non mi piace molto, a riempire la piattaforma di contenuti, che vuol dire i contenuti prodotti dagli SPOC, ma anche i dati già disponibili dentro il sistema, disponibili al sistema, disponibili al sistema nazionale o europeo di statistica. e al tempo stesso però andremo a selezionare, questa è la nostra strategia, dei pilastri, dei temi principali da portare a un livello di sviluppo più avanzato. Per esempio il tema dell'efficientamento energetico degli edifici, che è molto importante sia per le famiglie che per le imprese, ma anche per la definizione delle politiche, ha un focus in particolare. Quindi su quello cercheremo di sviluppare dei servizi più avanzati. Se volete lo utilizzeremo come uno use case per sviluppare la piattaforma, vorremmo arrivare a fine progetto con un servizio sufficientemente sviluppato per essere utilizzabili. Nello stesso modo, per esempio, il tema della sostenibilità delle imprese sarà oggetto di attenzione particolare, perché è cruciale mettere a disposizione del sistema dati che aiutino le imprese, le pubbliche amministrazioni, negli ESG rating, nella predisposizione, che facilitano l'accesso ai finanziamenti e così via. Altri temi importanti, la salute, questo è un altro tema su cui c'è un investimento particolare. Altro tema importante è il capitale umano e quindi la costruzione di dati che ci permettano, che oggi non è possibile, per esempio, di mettere assieme i dati delle scuole inferiori, quindi le primarie, le scuole superiori, con i dati universitari, con i dati invalsi, per esempio di valutazione dei contenuti della capacità dello sviluppo degli studenti, anche con il mercato del lavoro. Quindi identificheremo una serie di pilastri, Grims, questi sono esempi, e lo faremo nella maniera più pragmatica possibile, nei limiti in cui riusciremo a portare avanti i progetti, nei limiti in cui riusciremo a convincere i ministeri e le imprese a contribuire al progetto, investiremo in particolare. E la speranza è di lasciare al Paese un sistema solido, funzionante bene, nelle versioni di base, con qualche progetto già avviato, che offra già servizi e che permetta di costruire. E quindi, come dire, questo ovviamente richiederà la ricerca di ulteriori finanziamenti nei tre anni successivi. Che poi, tra l'altro, stiamo vedendo oggi che continuano ad esserci dei soldi e degli investimenti anche da parte dell'Europa, cioè il PNRR, adesso finisce, però dopo ci sono state delle prese di posizione, per esempio da Mario Draghi, dove dice che per la transizione dovremmo avere ancora 800 miliardi all'anno come Europa. Quindi ci saranno degli altri fondi che arriveranno. In questo, Grims e soprattutto Amelia, che potenzialità e che ruolo potrebbe avere? Ma questa domanda è cruciale, al netto del fatto che non sapremo quante altre risorse ci saranno. Questo è vero, perché qui tra investimenti panni sono tanti. Forse 800 miliardi l'anno, forse meno. Però un punto è certo, abbiamo certamente incertezza su quante risorse ci saranno, però un elemento certo c'è. Le risorse verranno in maniera crescente distribuite solo sulla base di progetti che prevedano una valutazione degli impatti, delle politiche, degli investimenti fatti ex ante. Quindi saranno sempre meno distribuite a pioggia e sempre più distribuite su progetti mirati, ben costruiti. E analizzati e valutati. Esatto, ma soprattutto le risorse, e questo è l'impianto europeo, saranno distribuite solo se sono valutabili e valutate. Ed è qui che la piattaforma Greens, l'ecosistema digitale, davvero può offrire al Paese un servizio. Perché non solo ci permette di mettere a disposizione dati per fare scelte migliori, ma anche per certificare scelte migliori. Ovvero, se noi mettiamo a disposizione delle imprese i dati per non solo fare scelte più sostenibili, ma per dimostrare che le loro scelte sono più sostenibili. Non solo dare a disposizione delle pubbliche amministrazioni i dati per disegnare le politiche e valutare le politiche, ma anche dimostrare che le politiche che stanno implementate sono giustificate dai dati. Quindi, in questo senso, è un grande strumento che ci viene richiesto dall'Europa. Tutta l'Europa si sta spostando in questa direzione. E da questo punto di vista, torno al discorso di prima, non dobbiamo offrire al Paese uno strumento sviluppato in tutte le sue potenzialità. Dobbiamo offrire uno strumento che permetta al sistema Paese, alle imprese, alle pubbliche amministrazioni, di usare, di utilizzare quei dati e sfruttarli. Quindi ha una visione sul lungo sistema. Quando oggi tutti ce l'hanno molto short, qui per fortuna vediamo per la prima volta una visione un po' più a lungo termine. I ritorni di questi investimenti, gli investimenti in questi ecosistemi digitali, non è un caso che non ce ne siano, perché il costo iniziale è enorme e il ritorno iniziale è molto piccolo. Io, per costruire una piattaforma funzionante, sicura, che offra servizi, devo coinvolgere istituzioni, ci sono elementi legalistici e tecnologici. Inizialmente questi sistemi sono vuoti, quindi offrono dei contenitori vuoti. Quindi inizialmente tu fai un investimento enorme e non ne vedi il ritorno. Quando lo strumento ce l'hai, il popolamento e l'utilizzo dello strumento ha un costo molto basso. Quindi convergono tutti. Al netto del fatto che ci hanno chiesto di farlo, e quindi stiamo cercando di farlo, è proprio intrinseco in questi investimenti l'idea di fare un investimento che rimanga. Altrimenti andiamo a costruire qualche cosa e poi lo metti in rete e il giorno dopo lo spegne. Che poi è strategico per tutti per giustificare anche eventuali richieste o partecipare a nuovi fondi che possono arrivare dall'Europa. Che poi è un sistema, questo molto del nord Europa, perché del controllo e dell'analisi dei dati. Sì, allora diciamo che si va nella direzione che tutti i finanziamenti, sia al sistema pubblico che privato, ma anche quello della ricerca, saranno sempre più indirizzati e pensati per avere poi una valutazione dell'impatto. E questo è semplicemente legato al fatto che le risorse siano tante o siano poche, le risorse sono scarse, sono necessariamente scarse. In più l'Europa ha necessità di capire l'impatto della transizione ecologica nel lungo periodo e per farlo chiede rispondere. Il problema è che questo va a scalare perché l'Europa distribuirà soldi ai paesi, chiedendo però una risposta. L'Italia distribuirà soldi a università, imprese e pubbliche amministrazioni chiedendo una risposta. Quindi i soldi italiani che vanno alle regioni, le regioni si dovranno attrezzare per giustificare l'utilizzo dei fondi. E poi ai comuni, quindi a questo punto qua anche la platea di Greens crescerà tantissimo. La platea di Greens è la platea del sistema Italia. Quello che stiamo cercando di fare è di mettere a disposizione uno strumento che convinca tutti coloro che hanno dati e che tipicamente non divulgano o non usano a metterli in comune, metterli in comune in modo sicuro e soprattutto poco costoso. Quindi è uno strumento di facilitazione. Quello che stiamo cercando di lasciare al paese è uno strumento che sia aperto e che offra un network e un'infrastruttura che permetta a famiglie, imprese, pubbliche amministrazioni e sistema di ricerca di attaccare i problemi e fare scelte sulla base dei dati disponibili idealmente in tempo reale o comunque in tempo sufficientemente utile. Ringraziamo il professor Cervellati, alla prossima puntata di Focus SG.